Il fatto è che un Mussolini vada a banchettare nei luoghi dove 73 anni fa furono fatti prigionieri e poi fucilati 9 ragazzi aquilani, per noi è una cosa scandalosa. Che Mussolini ritorni sui luoghi del delitto, questa è la cosa che non possiamo accettare pacificamente. Un presidio in piazza Colle Brincioni alle 20 di questa sera contro l'iniziativa elettorale prevista proprio a quell'ora in un ristorante della zona di Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Mussolini. Un nome che per Lampi dell'Aquila impone rispetto per la storia e per il luogo dove 73 anni fa durante la guerra i fascisti catturarono i 9 giovani martiri aquilani che cercavano di raggiungere altri partigiani al di là della montagna attraverso il bosco del Maltese nel Teramano. I 9 ragazzi dissero no alla guerra ma vennero catturati a Colle Brincioni e poi fucilati nella caserma Pasquali dell'Aquila. A pochi giorni dalle cerimonie per la liberazione del paese dal regime nazifascista, l'appuntamento elettorale di oggi con un pronipote di Mussolini proprio in quel luogo, a pochi passi dalla fontana monumentale dedicata ai 9 martiri per l'Associazione Nazionale Partigiani dell'Aquila è uno schiaffo inconcepibile alla memoria. Voi dite sì alla campagna elettorale ma non a denigrare la memoria? Ma assolutamente sì, noi chiediamo il rispetto della memoria. Vedete, si potrebbe fare un esempio fortissimo tra la Germania e questi squalli di fascisti locali. La Germania che ha riconosciuto i propri errori dopo il terremoto del 2009 è venuta all'Aquila e si è messa a disposizione della città come tanti altri stadi democratichi e ha scelto Onna per dare il proprio contributo alla ricostruzione perché la Germania ha conosciuto e riconosciuto la sua storia, ha capito gli errori, i drammi, le sconcezze fatte dal nazismo, ha chiesto perdono al mondo e si sta riscattando, aiutando i popoli che il nazismo, i leggenti che il nazismo aveva devastato. I fascisti nostrani invece continuano ad avere nostalgia di un regime che è stato guerra, fame, oppressione e schiavitù della Germania nazista.